Edilcasa S.R.L. di Gioia del Colle è un'azienda di materiale edile nata nel 2001 da tre fratelli. Vendiamo materiale edile e cerchiamo di abbracciare tutta la gamma dell'edilizia. Abbiamo scelto di collaborare con Heidelberg Materials perché è un'azienda che ha tanti prodotti, ci offre un ottimo servizio e un grande supporto tecnico. La richiesta di prodotti a base di cemento è cambiata nel tempo. Maggiormente vengono richiesti prodotti certificati. I prodotti che vengono richiesti maggiormente nel nostro territorio sono cemento 325, cemento rapido e cemento bianco. Conta molto per la nostra rivendita avere prodotti specifici per la richiesta del territorio. Cerchiamo di soddisfare al massimo la richiesta dei nostri clienti proponendo le soluzioni per le ristrutturazioni o il rifacimento delle abitazioni. A Heidelberg Materials chiediamo che continui sempre con la gamma di prodotti che ci propone, aggiungendo sempre altri prodotti innovativi per le esigenze del mercato.